Sì, vai, trapano, cane che abbaia, poi... Ciao, nel video di oggi la TuttoTec vi vuole presentare un accessorio che in questo periodo, siamo in inverno, quindi nulla di più giusto che acquistare un cappellino di lana. Sì, ma essendo noi un canale tecnologico non vi diamo la possibilità di acquistare solo un cappellino di lana e siamo a posto così. No, è un cappellino di lana con la possibilità di collegare il proprio cellulare tramite Bluetooth direttamente a questo dispositivo che c'è all'interno, cucito all'interno. È un cappellino, sinceramente non so di che marca mi è stato regalato a Natale, ma ho avuto modo di testarlo in questi giorni e sono rimasto piacevolmente colpito. Perché? Perché il pairing è semplicissimo. Ha trovato immediatamente il dispositivo e in più cosa succede? Nel momento in cui ricevete una telefonata, io non pensavo, pensavo servisse solo per la musica, potete rispondere e parlare tranquillamente perché è dotato sia di auricolari sia di microfono integrato. E funziona molto bene. Anche se si trova all'altezza delle orecchie, il dispositivo vi dà la possibilità di poter parlare con l'altra persona in maniera perfetta, senza nessun problema. Ma prima di entrare un po' più nello specifico per quanto riguarda il prodotto di oggi, vi ricordiamo di iscrivervi al canale e attivare la campanella, in modo tale da essere avvertiti ogni qual volta noi caricheremo un nuovo video. Ma ancora prima di indossare il cappellino caldo caldo, vi lanciamo la nostra sigla bella fresca fresca. Sigla! Entriamo un po' più nello specifico. Quando mi è arrivato, tirandolo fuori dalla confezione, oltre al cappellino naturalmente c'era anche un USB. Non so se si vede, ma qui c'è una fessura mini USB, potete inserirla all'interno, collegarla a un caricatore per cellulare tranquillamente, e inizierà la carica della batteria interna. Per poter effettuare il pairing col vostro cellulare, tenete premuto il tasto play, fino a quando inizierà a lampeggiare blu, dopodiché è entrata nelle impostazioni del vostro cellulare, e lo trovate. Una volta collegato, potete, come detto prima, ascoltare la musica, alzare e abbassare il volume, mettere in pausa, e anche ricevere le telefonate, e quindi parlare tranquillamente. Secondo noi è un prodotto molto valido, e sinceramente anche questo non mi aspettavo funzionasse così bene. Il suono arriva pulito, limpido, non ci sono interferenze, e anche parlando al microfono, che si trova in uno dei due dispositivi, quindi un po' più in alto, la persona dall'altra parte ci sente molto bene. Abbiamo fatto un po' di test, e sinceramente siamo rimasti svalorditi. Purtroppo il prezzo non ve lo so indicare, vi metterò qui sotto comunque un cappellino che avevamo forse già presentato tempo fa, presentato, vi avevamo suggerito di regalare per Natale, quindi vi metterò un link qui sotto per poterlo acquistare. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi! 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 Grazie a tutti.